Ridurre le liste di attesa e la mobilità passiva, gli obiettivi alla base dell'accordo firmato tra la Regione e le case di cura private, grazie al quale si punta a recuperare risorse da destinare al miglioramento dell'offerta sanitaria sul territorio. L'accordo era atteso dal 2010 e a zero è il contenzioso pregresso per 2011 e 2012. Si tratta di un investimento di oltre 6 milioni di euro, di cui 4 messi dalla Regione, gli altri 2 provenienti dai budget dei privati. Abbiamo chiesto al privato, perché ci crediamo, di stare dentro il nostro processo di riforma e quindi superare anche loro l'elemento della frammentazione che è un limite e naturalmente adeguarsi a quelle che sono le nostre esigenze per un rapporto più duraturo, più solido, che naturalmente viene bene a noi proprio per rincorrere quella proprietà che vogliamo. Liste d'attesa in questo caso e mobilità passiva sono gli elementi che noi dobbiamo combattere per fermare e riportare e aggiungere risorse al nostro sistema, da una parte e dall'altro voglio dire però chiedere ai privati accreditati di adeguarci ad un processo di riforma che non può riguardare solo il pubblico. Convertiamo il nostro budget a favore di servizi e attività che servono alla Regione Marche. Come a dire, prima facevamo più colecisti, più varici, adesso abbiamo deciso di fare più attività per cui la mobilità passiva è più sensibile.